Grazie, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Vi ringrazio di essere qui. Dunque, da questo momento circa 30 anni fa già cominciavo ad essere in pensiero. 30 anni sono stati lunghi a non avere questa verità. Però, tanti ringraziamenti a tutti voi, tanti di voi mi sono stati vicini. Posso dire anche la fede stessa, che non l'ho mai persa, anche se a volte sgridavo col Signore. Come mi diceva Don Ettore, che lo voglio ricordare, che anche lui ha sofferto tanto per questa mancanza di Cristina. Addirittura voglio dire che l'anno scorso non era più in grado di dire sempre messa. L'abbiamo fatta insieme, qui vicino, dove abitava lui, dove abitava io e lui insieme. Per me questo è stato un grande regalo che lui mi ha lasciato l'anno scorso, il primo settembre. Quest'anno ho bussato in comune per sentire cosa faceva la città di Cesena, perché, come ho sempre detto, io non voglio fare dimenticare Cristina. E vedo che non è dimenticata, la portano nel cuore in tanti. E quest'anno è stato il Sindaco che se arriva bene, altrimenti pazienza, perché anche i suoi figli, anche lui è giusto, come mi ha detto al telefono, corro a casa anche dai miei figli, spero di arrivare in tempo. Però quando sei in giro, sapete anche voi, ha tanti impegni e le difficoltà. E' solo il pensiero che lui non riesce a venire qui, pazienza, però riesca ad arrivare a casa dai suoi figli, a me già sono grata. Anche perché l'idea di essere qui è stata sua. Quando io sono stata sua al comune, a bussare, lui mi ha detto, perché non fare messa al giardino di Cristina? Perché non andare al giardino di Cristina il primo settembre? Va bene, ho detto io, però ho detto io, tutti gli anni mi si diceva la messa. Dice io non la posso dire, però lo dirò a sua eccellenza al vescovo. E così ha fatto. Ed è venuto tutto a buon fine per questa cosa. Però, credetemi, non è facile vivere nel non sapere nulla, perché io continuerò a far chiasso, a combattere. Spero che le istituzioni riaprono il caso. Però non è facile, dopo tanti anni, trovare questa verità. Solo il Signore la può dare, può aiutarci. E infatti, come mi diceva Don Ettore, tiri per la sacona, eh, Signore. Adesso che lui è là vicino, è in cielo, chissà che è una voce in più, un qualcosa. Noi lo siamo per tutti noi, per tutti voi, per Cristina, per me stessa, avere la verità di ciò che è successo. Continueremo a combattere e una sola cosa chiedo, dico, che Cristina la vogliamo ricordare nei suoi pochi anni, 21, che è vissuta qui, perché io sono certa che Cristina non c'è più. E mi auguro solo che come mamma, lasciando la terra qui, la sua vita terrena, abbia sofferto poco. Perché questo è il pensiero più duro per me, non essere potuto stare vicino a lei al momento che lei aveva bisogno. Perché per me lei mi chiamava quando gli è successo qualcosa. Però la vogliamo ricordare con quel sorriso che è lì nella foto. Perché, come diceva anche Don Ettore, succede una cosa e non per nulla. Le cose succedono. Che da una disgrazia, e questa è una cosa molto dura e vi auguro di non mai provarla, non avere più, perdere una persona di famiglia, figlia, papà, mamma, chiunque sia. Quando con la comparsa di Cristina è nata l'associazione Penelope, ecco. E Penelope, Cristina è diventata Penelope, sta tessendo lei la tela. Perché, perché tanti casi, tanti ragazzi, tante persone con Penelope, tante famiglie ritrovano anche solo un cadavere. Perché non c'è, se non c'è un cadavere non si elabora il lutto di una perdita di un familiare. Non mi voglio dilungare. Vedo l'assessore anche, che è tanta amica di mia figlia, che l'aiuta tanto, con suo ragazzo, con tutto. La ringrazio sempre. Ringrazio tutti voi. E lascio la parola a chi deve parlare adesso. Grazie ancora, e Cristina stamattina si è fatta sentire, con la pioggia. E poi guardate, ci ha dato il modo di essere qua. Ringrazio coloro che hanno dovuto correre per allestire qua. Tutti gli amici di Cristina, che ancora ci sono. Grazie di nuovo, non so, basta. È arrivato il sindaco. Mi dicono che è arrivato il sindaco. Il fila, il colpevole di quest'anno. Voglio sempre portare avanti con la speranza di avere. Grazie Rino, anche che hai dovuto lavorare. Te la parma siete sempre in prima linea. Ti ho dato del colpevole. Ti ho dato del colpevole. Perché? No, non sei ricordo, sei arrivato. Grazie. Grazie Marisa. Grazie anche il Vescovo che ha condiviso questi bianchi. Abbiamo avuto insieme a Marisa di ritrovarci qui, anche con la celebrazione della Messa. E ha trent'anni da quella che è una ferita per Marisa, per tutta la famiglia di Cristina. Una ferita per Ronta, per la città di Cesena, per... Credo che sia una ferita indelebile, che fa parte dell'immaginario e del sentimento collettivo della nostra città. L'assenza di verità su ciò che è accaduto a Cristina è un dolore della famiglia, un dolore di tutta la nostra comunità, un dolore che accompagna la storia degli ultimi trent'anni della nostra città, che ha condizionato e ha pesato sulla città, sulla comunità di Ronta in particolar modo. Ha pesato anche sulla comunità dei Capuccini, che è un insediamento storico e importante nella nostra città. Io ricordo anche da bambino, vivendo qui vicino, Don Ettore, lo voglio ricordare di fronte a tutti voi, che aveva anche la delicatezza di parlarci questa storia e poi di rendersi conto che, essendo bambini, non potevamo, non era il caso di raccontarci di particolare o di crearci un'inquietudine eccessiva sulla scomparsa di Cristina.